Ciao a tutti, oggi voglio aiutare un nuovo canale ispirato all'arte, si chiama Fabio Abstract e oggi sono qui per invitarvi a unirvi in un incredibile viaggio nel mondo dell'arte astratta e tanto altro. Se siete interessati a scoprire nuove prospettive artistiche, questo canale è fatto apposta per voi. Appassionato artista, pronto a condividere il suo mondo creativo con voi. La sua arte è una fusione di astrazione e stile, creando opere che trasmettono emozioni e stimolano la riflessione. Su questo canale vi aspettano video coinvolgenti, dalle mostre delle sue opere più recenti a in futuro tutorial pratici per creare arte astratta, passando per dietro le quinte del suo processo creativo. Inoltre esploreremo insieme altre forme d'arte che lo ispirano.